Prefettura Italia Lavoro assieme per parlare di impiego di mano d'opera straniera con riflessi sanzionatori. Si tratta della prima esperienza pilota che l'Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro intende riproporre successivamente anche in altre province. Ragusa è dunque stata scelta come prima sede a causa della forte incidenza al fenomeno migratorio nel territorio ma anche delle buone prassi operative sperimentate in province che hanno contribuito alla nascita del cosiddetto modello Ragusa da molti apprezzato a livello nazionale. Durante il seminario si è parlato degli elementi di criticità legati anche alla crisi economica e alle dinamiche di mercato in alcuni casi oggetto di fenomeni distorsivi che generano illegalità. Lo stesso prefetto ha annunziato Vardè nel suo intervento ha offerto altri spunti di riflessione in ordine alle difficoltà di mantenere la piena salvaguardia della coesione sociale nell'attuale scenario di generalizzata crisi economica e occupazionale. Sull'argomento hanno relazionato anche i procuratori della Repubblica di Ragusa e Modica che hanno affrontato l'argomento dell'impiego del lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno e la fattispecie di reato di intermediazione illecita. Un progetto nel complesso che mira a favorire anche il confronto fra i corpi ispettivi e gli organi di vigilanza che operano nel settore dell'immigrazione anche al fine di garantire un corretto monitoraggio del mercato del lavoro straniero.